Grande fratello, nota coppia nata all'interno della casa si lascia definitivamente il grande fratello, oltre ad aver regalato grandi risate e forti emozioni nel corso degli anni, è stato più volte l'artefice di vari incontri da cui sono poi nate bellissime storie d'amore. A partire della prima edizione, i ragazzi all'interno della casa hanno legato tra loro, seppur in modo diverso, da questi legami sono derivati astri litigi ed intense relazioni amorose, purtroppo però gran parte di queste ultime si sono concluse a distanza di poco tempo. È di poche ore fa la notizia relativa alla fine della storia tra due protagonisti di una delle passate edizioni del programma, di chi si tratta, Mari e Giovanni mettono fine alla loro storia, chi non si ricorda di Giovanni Angiolini e Mari Falconieri, i due protagonisti di una delle scorse edizioni del grande fratello sembrano aver messo definitivamente un punto alla loro storia. A comunicarlo è stata proprio la ragazza su Facebook, infatti, ha chiesto ai numerosi fans di chiudere tutte le pagine e i gruppi dedicati a lei e al suo ex fidanzato, dopo aver vissuto come nei film, come da lei ribadito più volte, dopo anni la loro relazione è giunta al termine. Mari annuncia la fine della relazione con Giovanni, su uno dei vari gruppi presenti su Facebook dedicati a lei e a Giovanni, Mari ha fatto una richiesta particolare ai fans. Ha infatti chiesto di chiudere tutte le pagine e i gruppi riguardati la sua storia con Giovanni mediante le seguenti parole, penso sia il caso di chiudere tutti i gruppi, tanto la coppia non c'è più, così facendo, la ragazza ha ufficialmente comunicato la fine della sua relazione con il bellissimo ortopedico. Sempre sui social, poi, la Falconieri ha dedicato un post a se stessa concludendolo con le parole di speranza, andrà tutto bene, la scelta difficile di Mari, solo pochi mesi fa, Mari ha preso una drastica decisione, quella di farsi asportare i seni per eliminare anche la minima possibilità di avere un tumore al seno. A soli 25 anni, la ragazza ha dimostrato di avere coraggio nel prendere decisioni importanti come questa, avendo sempre al suo fianco l'ex fidanzato Giovanni, il quale più volte si è dichiarato orgoglioso di lei, un amore finito. Giovanni e Mari sono due ex concorrenti della casa più spiata d'Italia, tra le pareti di quest'ultima ebbe inizio il loro amore qualche anno fa. Grazie.